Fishing Up, la super offerta riservata ai negozi di pesca. Entra a far parte di Fishing Up, la più grande vetrina per il tuo negozio di pesca. Ed avrai scheda del tuo negozio, intervista pubblicata nella sezione profili, box vetrina e solo con noi lo spot in tv del tuo negozio. Tutto questo ha il costo anno di soli 190 euro. Chiama subito 0575 40 30 66 Fishing Up, rendi visibile la tua attività con Italian Fishing TV.